Pecchiato a morte in questura, il giovane Salvatore Marino, morto dopo l'interrogatoria. Alla cessatura apre un'indagine sul gravissimo fatto. A te ti piace leggere? O io, tutto dopo. Io vado a leggere bar, talbanchi, paneficio. Ma che ero male all'occhio, mio figlio. Quando ero piccolo io, leggere un libro sembrava essere più difficile che ammazzare un cristiano. Eppure quando ero leggerito io. Se è boggiato, se è. Quando ero piccolo tu, leggere era più facile che ammazzare. Ma stava un po' di buona volontà. La verità è che a te ti piace ammazzare cristiani. Pettiamo anche un travaglio. È natura. Vai. Ciao, grazie. Ciao, ciao, io. Ciao, ciao, io. Grazie a tutti. Aiuta! Aiuta! Aiuta!